Ebbene amici fratelli della congrega, che cos'è questa voce da orco? Oh, una voce ammaliante da tipo brillante. Il commissario Falò 3, una detective story incandescente, conturbante, avviluppante. Sviluppante, sì, perché ci sarà anche il commissario Falò 4. Il terzo sarà presto su Audible, presto insomma, non proprio in zona coming soon, forse a settembre. Ci sono dei tempi di pubblicazione da rispettare. Voi che siete fuori dal tempo, a Bologna piove nei giorni antecedenti a questo, ma che giorno è? Ci fu un temporale, in forma smagliante, in zona estemporanea. No, estemporaneamente il Falò vi dice questo? Magistralmente. Pezzo di pure improvvisazione. Il commissario Falò è il nuovo Cobra, Marion Cobretti. Carinetti, esseri infetti, c'è un uomo che scruta, che naviga nel buio delle sue o vostre paure, delle sue ansie, e si immerge nella città luminescente, fluorescente, fosforescente, da deficiente o da investigatore sapiente, lungimirante. Splendido, splendente. Il commissario, un uomo che si rinnova a ogni dì, che si sveglia all'alba, e già il crepuscolo non è un omucolo, e non scrive opuscoli, bensì ha sviluppati tutti i muscoli, oltre al suo cervello, che è al di là di quello di molte persone, senza uccello. Sì, qui sembra anche Al Pacino, doppiato da Massimo Corvo, in White Skill, sottotitolato Sfida senza regole, di John Eternet con Bob De Niro. Sta anche allestendo un altro libro su Bob, raccogliendo le migliori reviews e recensioni in merito. E' un uomo in merito, un uomo che è marito di qualcuna, no, non è sposato, è spesso spossato, non ha ancora figliato, ma ha sempre indagato e sempre indagherà. A Bologna viene commesso un omicidio ogni mese, a volte meno. Uno stupro ogni settimana, questo è uno schifo. Il commissario è un uomo che sa il falo suo, che sa la verità, e anche se non la sa subito, la saprà. Statene pur certi, voi acquattate al buio, voi cattivi, voi che commettete crimini aberranti, riceverete un'aberrazione e la giusta sacrosanta lapidaria punizione del commissario. un uomo tembile.